Va tutto bene? Ci domandiamo. Dopo il gelo dei giorni scorsi tra Conte e Zingaretti, ieri è stata fatta la pace, tutto a posto, Augusto Minzolini. Tu oggi, in prima pagina del giornale, scrivi che in verità inizia a crollare quel tabù che diceva che il Premier era saldo al comando perché mancavano alternative. Ma sai, se noi andiamo appresso alle parole che ieri sono state diffuse, tante, allora non doveva esserci tutto questo problema perché di fatto non è la prima volta che si dice no, tutto va bene, andiamo avanti, non c'è problema. Lì quello che manca, e mi sembra che per ora non avremo riscontro se non aspettiamo qualche giorno, qualche settimana, spero non mesi, sono i fatti. E se non ci sono i fatti, poi alla fine questo quadro secondo me non tiene perché siamo in una situazione d'emergenza e non è che tu puoi continuare a rinviare, domanda, i piani sul Recovery Fund li fanno adesso o li fanno là? La vicenda del MES viene decisa in un modo o nell'altro ora o dopo? Se tu non arrivi a questo, noi stiamo parlando del niente, parliamo diciamo di minuetti di politica, di lessico politichese che però non porta a nulla e secondo me ieri la situazione non è assolutamente cambiata. Tanto più che capisco l'atteggiamento rispetto alle alleanze ma mi sembra abbastanza chiaro che se ci sarà una possibile alleanza tra 5 Stelle e PD l'avremo soltanto in Liguria.